Sì o no? Una preferenza che andrà a modificare in modo importante il nostro sistema parlamentare. Una preferenza che verrà espressa al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, che il 20 ed il 21 settembre chiamerà gli italiani alle urne, per una decisione che cambierà l'assetto politico del nostro Paese. Con la vittoria del sì, infatti, vi sarà una modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione e quindi una riduzione del numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200, mentre con la vittoria del no il numero dei posti disponibili a Palazzo Madama e dalla Camera resterà invariato. Un referendum che forse è stato messo in ombra dalle elezioni regionali, che si svolgeranno negli stessi giorni, ma che nonostante questo mantiene comunque la sua centralità per gli italiani, come dimostrano i pareri dei fanesi. Voterete per il sì o per il no? Per il sì, perché pensiamo che sicuramente possono redigere leggi anche in minor numero, che questa campagna per il no non è così corretta. In questi anni abbiamo visto come hanno tagliato tutto, hanno comunque legiferato non a dovere, non nel migliore dei modi, quindi speriamo che con un minor numero di senatori possano lavorare meglio e magari un po' più seriamente. Io voto no per la rappresentanza poco numerosa che dopo si ha in Parlamento. Il territorio deve essere rappresentato tutto, mentre così è molto più sintetico. Io penso che chi non conosce bene il proprio territorio non possa rappresentarci. Sì, sì, voto sì, perché siamo stufi di mantenere gente che non fa niente. Ma non pensa che potrebbe diminuire la rappresentanza? No, ne abbiamo anche troppi rappresentanti. Sono contratto. Posso sapere perché? Il risparmio, quello importante, la rappresentazione del popolo che vota. Non so se sarei andato a votare, se fossi andato a votare avrei votato sicuramente sì, ma non convinto. Comunque il tutto. Sicuramente serve avere un taglio dei parlamentari, un costo minore sicuramente, ma non sono queste le cose da risolvere i problemi principali del Paese. Grazie a tutti.